buongiorno e buona giornata buon pranzo ci avviciniamo alle ore 13 di questo mercoledì 11 11 2020 prima di sentire il mio contributo pre registrato sulla serie c le partite di oggi e di domani volevo dirvi un po questi giorni tra un impegno e l'altro e la mia dedicazione un po più a facebook con il profilo e le paginette piuttosto che il canale però insomma cerchiamo piano piano di equilibrare la cosa di come vedete rieccomi di nuovo sul canale bene quindi adesso mando attraverso il mio fantastico primo telefono senza tasti il contributo fatto dammi sulla serie c buona scuola a tutti buongiorno e buona giornata a voi tutti cari amici questo mercoledì 11 11 20 allora presentiamo il turno infrasettimanale di serie c girone a girone b e girone c torno infrasettimanale partiamo dal girone a allora vediamo qui alga per golettesa alle 12 e 30 albino leff alessandra alle 15 stesso orario carrare serenate piacenza propadre provarciale albino un po spСТ o ieri c*** a lei diciasette e 30 albino c 130 albino e gilio e mirovano gianerminio girone b legnano jكرino subs ma delica alle 15 stesso orario fermo adenacarpi triestini molese 17 e 30 Perugia, Padova, Ravenna, Gubbio, 18 e 30 Sud di Tirola, Aldoadice, Mantua, Bispesaro, Cesena, 20 e 45, Fermana, Fano, Virtus, Verona, Feralpi, Salò, Girone, Cia, Le 15, Foggia, Turris, Monopoli, Viterbese, Dernana, Virtus, Francavilla, 17 e 30 Catanzaro, Teramo, Paganese, Avellino, 20 e 45, Potenza, Bari questo ripetiamo per quanto riguarda oggi 11 novembre 2020 domani giovedì 12 novembre vediamo allora, 12 novembre vedo qui Serie C, Girone, Cia, Le 15, Juve, Stabio, Palermo, 17 e 30, Catania, Biceglie poi vedo in programma ma non so se effettivamente si svolgerà riferimento alla situazione caotica del covid anche dei settori giovanili del calcio maschile Coppa Italia Primavera 10 e 30 Frosinone Spallo bene dal vostro Nicola da Lucer tutto un saluto e alla prossima bene come avete sentito quindi il contributo inoltre io volevo ringraziare avevo visto quando mi sono collegato al canale dei quattro nuovi iscritti perché avevo lasciato il canale a 50 se ne sono aggiunti quattro quindi grazie ai quattro nuovi iscritti vediamo se c'è qualcosa di nuovo ne parliamo insieme o qui o su Facebook quindi buon proseguimento di giornata a tutti buon pranzo e alla prossima a stavista buona alla prossima ciao ciao